Antonio Fiori, giocatore del Vasto Girardi, appena è entrato hai segnato il secondo gol, il secondo gol importantissimo per il Vasto Girardi perché vi ha portato alla vittoria. Sì, sono molto felice del gol ma soprattutto della vittoria perché è una vittoria importantissima in chiave salvezza, abbiamo fatto tre punti fondamentali quindi sono molto contento. Antonio, tra i punti fondamentali come hai detto tu, il Vasto Girardi a tuo avviso ha cambiato il passo? Sì, abbiamo cambiato il passo, il mister ci aiuta sempre in maniera positiva, anche noi compagni ci aiutiamo sempre cercando di dare il massimo sinalamento sia nelle partite, magari nelle partite precedenti non siamo arrivati alla vittoria però speriamo che con questa vittoria riusciamo a cambiare passo. Comunque a restare in zona salvezza, prossima giornata vi attende il Termoli, vi spaventa? Non ci spaventa nessuno, noi andiamo la domenica cercando di dare il massimo e di fare la miglior prestazione possibile e cercando ovviamente di vincere. Antonio, a tuo avviso è mancato qualcosa nel primo tempo visto che sembrava insomma che c'era un po' di timore tra le tue squadre o comunque di studio tra le tue squadre? No, non abbiamo avuto timore, abbiamo giocato come ci ha detto il mister e magari non siamo riusciti a essere cattivi come nel secondo tempo sotto porta però anche nel primo tempo abbiamo fatto una buonissima gara.